no comincia a te benvenuti in questo gameplay benvenuti ciao c'è l'humus qua non per cambiare eeeh extra yes 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 per 10 yes 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 no yes 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 ok siamo in questo fantastico sesto ma dico sesto gameplay allora abbiamo trovato già lo studente in pericolo lo ritroveremo insieme ho già trovato un omino quindi era molto facile trovarlo l'avrete trovato anche voi ma nessuno stemma una minaccia velata gioco libero arrivo e eccoci scusate ma eravamo morti ci hanno ucciso siamo risuscitati io prendo sirius azkaban ben tre minuti dopo 16 secondi 18 19 20 21 io prendo olivander 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 si dice olivander da oliva deriva no hai ragione te olivander hai mai sentito ah andiamo da olivander a prendere le nostre pacchette magiche no non ho mai sentito wait quel cosa mi piace non è arrivato un messaggio ciao bene uno su cinque ho distrutto il pedone trovate cinque pedoni era un pedone lo so ma qualcosa di simile era una di quelle che ho appena rotto una profezia aspetta aspetta aia no volevo mettermi sotto cosa ho trovato un ghiacciolo bello chi vuole il ghiacciolo? la pentola è un ingrediente però non dobbiamo andare troppo avanti secondo pedone mi piace chiamarlo pedone non lo so è più figo ma queste cose verdi? eh sono i pedoni si lo so ma quando li rompi teoricamente scompare ehm si infatti dice quattro su cinque perchè non è cosa cazzo? era qua era lì però la precetta era il vabbè senti i pedoni sono quelli yeah ho usato l'hummus non lo so non lo so solleva me occhi aia un ragno ho paura di preso vai là dentro il nuovo con lui giallo con giallo e il rosso con rosso pietro pietro in biancheria intima ti piace così tanto che guarda noi abbiamo rompijama c'è un'altra c'è un'altra c'è un'altra guarda sono giovane sono vecchio sono giovane vecchio giovane vecchio vecchio giovane sono la signora covo per fin cambiato si vedevo amico dici che ha finito il credito sclero via non mio oggi bella tristi in quarta c io odio quello che sta facendo adesso lei. Perché, Jimmy? Me lo spieghi? E' quello il punto. E ti consiglio di andare contro i pal... No! Ah, aspetta, però bisogna anche colpire qualcosa. Madonna. Uno su cinque abbiamo fatto uno su cinque di non si sa cosa. Ecco, fermati. Qua siamo al sicuro. Ti difendo io. E vanno messi qua questi. Va bene, dovevo fare aguamento. Ecco l'altra versione di Lucius Malfori. Orco Giù. Giùnone. Oh, guarda, senza beccare me. Guarda Silente, giovane, la bacchetta è normale. Guarda, invece lui, Silente è normale, bacchetta è di Sambuco. Perché, vedi, versione maledetto. Come Pirati dei Caragli. Ah, ok, con l'agomente e con il coso viola ho sbloccato il Nermione. Aspetta, non andare avanti. No, no, c'è una cosa... Eh. Eh. Lucius Malfori mangia morte. Sperando che non abbia il pavono. Nei la vada che dava. Aspetta, tieniti pronto perché quasi comincia a correre. Aspetta. La cosa rossa? 5 su 5 stemma. Big Griffon Dura. Cosa? Sai mia, sai mia, sai mia. Ma sono un aschio. Un'energetica. Stacca. Sono Yaxley, ma... Papi. Riprendiamoci il nostro amato... Silus Black Atkban. Ok, uso un mago scuro perché serve. Qua che cosa... Ah, sempre lui. Ah, scava lì che c'è un studento in pericolo. Ecco come l'avevo fatto. Non sei un cane. Hai ragione. Eh, lui può diventarlo però. Per questo ero riuscito a farlo in modalità storia perché Silus Black può diventare cane. E ce l'avevi. Ti aiuto, Yaxley. È una donna. Mi si è svegliata un po' in ritardo però. ok, guardate tutti me, fateci... Cos'è distrutto? Varie cose del... come si dice? Non la morte nera, la magia oscura. Varie cose della magia oscura. Qua c'è uno scheletro. Ad aranciare contro... io direi che qua non c'è altro. Tu vedi freccette? No. Fammi pensare. Manca soltanto uno steam e poi dopo questa c'è un'altra parte del livello quindi siamo a posto. Ok. Contro Bellatrix. Ok, ora dovremmo fare credo un duello a testa. Io che sono? Tu sei la... My Granite. Io vado contro la... bella Trix. Ah, vabbè, prendo un personaggio simpatico, non... non ne ha rimasto sul culo neanche a Arthur. Grinderball da un ziano. Vabbè. Io vado contro Bellatrix. Com'è che funzionava? Devi prendere la sua magia che è quella che lampeggia nella tua ruota. e poi colpirlo e poi prendere tantissimo. Quindi adesso lui ha la ruota. Non ho capito. Guarda me un attimo. La sua magia è la stessa magia? Esattamente. Adesso sei caduto quindi... Ah, no, abbiamo fatto anche senza rendermene conto. Per battere di culo. Wow. Oppure basta da sconfiggerne uno. Ho ucciso Silvio Splecco. Ucciso Silvio Splecco. Ah, 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 ah. Oddio, che cosa macabra. Sì, è abbastanza. Ah, è vero che tu questo livello non l'avevi fatto? No. Da qui in poi è un agnimo. Ah, 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 ah. Geniale. Da dove sta scena adesso? Oh. Tu. Così ci sbatti conto. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. ah ah sei te io sono Harry è stato molto difficile ok tieniti per il silenzio io mi tengo pure Harry salve l'ultimo stimo è qui ah no c'è bisognerebbe tentare di e noi adesso il punto facendo sto montando un aggeggio grazie a tutti un aggeggio ha distrutto un'agenzia ok sappiamo che cosa? i fuocherelli piccoli quando bisogna spegnerne 10 ah sai cosa mi serve? vai dall'altro lato gira la manovella perfetto abbiamo completato tutto ah fai pure te tanto siete silente e Voldemort è la sua a destra si agguamenti contro i dissellatori certo cioè i Voldemort mangiamo altri dissellatori ah scusa non ti facevo vedere ecco ora avrò bisogno del tuo aiuto nel senso che adesso ci lancerai i vetri e tu devi far da scudo no vedi con qualcosa così c'è cosa che ti sposti però io devo star dietro di te poi dovrò montarti la roba ma quello lo faccio tranquillamente venite bambini ti bagno i vetri i vetri i vetri hai scusa e cosa non voleva? volevo beccare silente ma è sbagliata ma il mio Voldemort è morto come si che cosa? l'ho ucciso cioè prima di ucciderlo ci vogliono altri 3 film però sono in agonia faccia da spastico non se ti è morto solo 14 anni e poi c'è quello già sbloccato poi lo studente in pericolo avevamo già fatto ma vi avevamo fatto vedere come si faceva quindi i soldi ne abbiamo troppi fattuccini sempre di più boh addio prossimo gameplay